Abbiamo avuto quest'anno oltre 300 iniziative culturali in tutta la città. Una città che ha un grandissimo dinamismo dal punto di vista della proposta culturale e siamo riusciti a intercettarla bene. Le linee con le quali abbiamo avuto queste iniziative sono tra uno del mantenimento delle grandi e storiche iniziative di questa città come il Flaiano, il Pescarea Jets e il ritorno di fuori uso nella nostra città. Poi li robustire con le iniziative che hanno loro storie città che durano da diversi anni e che sono state molto amate dalla città. Parliamo del Funambolica, del Festival delle Letterature, dell'Indie Rocket Festival e di altre iniziative che hanno comunque oltre decenni che sono in questa città e ormai possono considerarsi adulte. E poi abbiamo un'altra linea, quella di poter sostenere e implementare tutta la creatività di questa città e quindi sperimentare nuovi linguaggi, nuove proposte culturali, nuovi settori di che la città non aveva vissuto appieno negli anni passati e questo ci ha condotto ad avere una stagione molto piena. Continueremo, hanno prossimo grandi obiettivi, abbiamo l'obiettivo della città della musica che contiamo di riuscire a rapire per fin anno per la città e poi il Teatro Michetti sta andando avanti anche da quel punto di vista. E anche per quanto riguarda la rete culturale della città stiamo facendo cose significative perché il Museo Vittorio Colonna, un gioiello al centro della nostra città, stiamo facendo sui fattibilità per esternalizzarlo, per poter far sì che diventi veramente il centro pulsante, l'arte contemporanea di questa regione, non semplicemente una bella struttura sottutilizzata.